A breve la città di Agropoli sarà dotata di un'area a sgambamento per cani. Ieri mattina c'è stato un sopralluogo da parte del sindaco Adamo Coppola e dell'assessore alle politiche sociali Vanna D'Arienzo tra via Le Lazio e via Campania, luogo scelto per ospitare l'area. Il terreno comunale adiacente il fiume Testene misura circa 800 metri quadrati. Doppia la finalità che si è posta con questa operazione l'amministrazione Coppola creare una zona idonea a portare gli amici a quattro zampe e recuperarla dal degrado in quanto divenuta impropriamente deposito e parcheggio camion. L'area sarà recintata e attrezzata con sedute legate tra di esse con percorsi pavimentati. Previste inoltre attrezzature necessarie per l'igiene e il confort dei fruitori. L'area a sgambamento completamente recintata sarà suddivisa in due zone, una per cani di grossa taglia e un'altra per quelli di taglia piccola. Ci saranno fontane per abbeverare gli animali, panchine per la sosta dei fruitori, segnaletica di rito, bacheca per gli avvisi. L'area sarà operativa dalle ore 7 alle ore 20 ogni giorno e l'accesso contemporaneo alla stessa sarà consentito a un massimo di sei cani muniti di museruola. Tutte le regole da rispettare sono state inserite nell'apposito regolamento approvato con delibera di consiglio comunale del 21 ottobre 2019. Si sta procedendo, afferma il sindaco Adamo Coppola, per la predisposizione di un'area a sgambamento nella nostra città. I possessori di cani sono tanti e a oggi non esiste un punto idoneo presso cui condurli. L'emergenza sanitaria in atto ci ha rallentati nell'attuazione del progetto ma ora stiamo lavorando in maniera spedita per recuperare il tempo perduto e fare in modo che nel giro di qualche settimana l'area sia pronta ed attrezzata. Quella in Viale Lazio non sarà solo un'area a sgammamento, dichiara l'assessore alle politiche sociali Vanna D'Arienzo, in quanto al suo interno si svolgeranno tutta una serie di altre attività. In collaborazione con l'ASL saranno organizzate giornate dedicate alla microcippatura con conseguente iscrizione all'anagrafe canina, giornate di sensibilizzazione al problema del randagismo per favorire le adozioni, pet therapy e tanto altro. Crediamo sia un atto di civiltà per una città che aspira a diventare sempre più friendly.